Finalmente, dopo tre sconfitte consecutive, il Gubbio torna a vincere in campionato. 1-0 contro la Torres, vittoria importante contro la seconda squadra di questo campionato. Una vittoria che alla Torres ha portato il secondo posto matematico, o meglio, l'impossibilità di raggiungere il primo, visto che il Cesena è stato meritatamente promosso in Serie B, ma indipendentemente da ciò, era comunque per noi importantissimo riuscire a superare questo momento complicato, sia per colpe nostre che anche per agenti esterni, se così possiamo dire, che ci avevano portato ad allontanarci in maniera all'apparenza definitiva dalle zone più importanti della classifica. Con questa vittoria ci risolleviamo un po', arriviamo a sei punti dal sesto posto, scusate, quindi siamo abbondantemente tranquilli, anche se non bisogna mai abbassare l'attenzione, bisogna sempre stare attenti, però sei punti con lo scontro diretto a favore può essere un buon vantaggio rispetto al Pescara, ovviamente squadra che in questo momento è sesta in classifica, e siamo a meno 5 dal quarto posto occupato dal Perugia, quindi è vero che bisogna stare attenti dietro, ma anche guardare con positività in avanti, la Cararesi diciamo ci ha fatto un favore fermandola il Perugia appunto, e quindi sono tre punti importanti che ci rimettono un po' in carreggiata, ovviamente ancora ne mancano diverse di partite, tutto può ancora succedere, però è bello il fatto che siamo riusciti comunque a risollevarci con una prestazione tutto sommato positiva e una vittoria, a parer mio, meritata, non è stata una partita eccezionale, almeno dal punto di vista estetico, non ci sono state così tante occasioni, né da una parte né dall'altra, la Torres ha creato veramente poco, Vettorelle non si è dovuto impegnare praticamente mai o quasi, e questo è comunque un lato positivo, perché vuol dire che contro una squadra che finora aveva fatto un ottimo campionato, e lo sta facendo comunque, in cui ci mancherebbe altro, essere riusciti a non permettergli di avere diverse opportunità è comunque qualcosa di positivo, quindi bisogna dare merito o demerito ai nostri avversari, ma anche merito alla nostra difesa, per essere riuscita a restare solida e compatta fino al fischio finale dell'arbitro. Come detto, non ci sono state grandi occasioni, per fortuna una di queste è stata trasformata in rete da Bernardotto, che ha, secondo me, fatto una delle prestazioni più belle singole degli ultimi anni, ma in generale, e questo ovviamente è scontato, una delle sue migliori prestazioni da quando veste la maia del Gubbio. Quarto gol stagionale, non un rendimento sotto questo punto di vista eccelso, però come detto voglio premiare la sua prestazione enorme a tutto campo, è riuscito a fare tutto quello che un attaccante dovrebbe fare, a segnare, sfruttando un eccellente assist di Di Massimo, con un bel gol e tiro preciso e angolato, è riuscito a fare sportellate con gli avversari, a recuperare palloni, fisicamente si è fatto trovare pronto, una prestazione, secondo me, totale da parte di un attaccante che merita assolutamente la riconferma la prossima stagione. Ci è mancato comunque il periodo che non ha potuto giocare, però adesso ce lo godiamo e sicuramente può darci una mano sia nella fase finale di questa stagione che chiaramente nei playoff. Adesso io non voglio soltanto troppo, non so se a livello matematico ci siamo già arrivati, però penso che a questo punto possiamo stare abbastanza tranquilli. C'era un possibile rigore sempre su Bernardotto, non sono riuscito a rivederlo bene, in diretta mi sembrava che ci fosse, però non voglio stare qui a lamentarmi del singolo episodio, perché voglio comunque dare spazio e merito al Gubbio che secondo me ha fatto una bella gara. Torres che mi ha un pochino deluso, ma ci può anche stare, nel senso, credo che adesso abbiano un po' la sensazione del ho fatto il massimo che potevo fare, non è bastato per il primo posto, però sono abbastanza tranquillo, nel senso che ormai la loro posizione è consolidata e difficilmente potranno cambiarla in qualche modo, negativamente parlando, e quindi ci può stare, ecco, io complessivamente guardo però i nostri colori e penso che tutto sommato è una vittoria importante. Adesso ci mancano, se non va derrato 4-5 partite, dovremmo cercare di consolidare il quinto posto, appunto, che ci praticamente confermerebbe su quello che abbiamo fatto lo scorso anno, che comunque è positivo per la nostra storia, e poi a playoff vedremo un po' come andrà, e quanto riusciremo ad andare avanti, se riusciremo a fare un percorso positivo. Comunque la vittoria ottenuta contro la torre è sempre importante perché ci sblocca questo blocco di sconfitte di fila che ci ha un po' sorpreso, diciamo, se consideriamo un po' quello che abbiamo fatto fino a quel momento, e non sto qui a dirvi degli episodi, degli errori, quello che è, perché comunque non è questo il momento. Io voglio sottolineare il fatto che abbiamo fatto una bella partita, una bella vittoria, e questo è senz'altro la cosa più importante. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti quanti voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!